Tutto ragazzi, prima di cominciare io vorrei dirvi che ho creato un canale telegram di Fortnite News riguardando i battle royale e anche qualche volta salvo il mondo Se vi interessa ve lo lascio sotto in descrizione, vi raccomando di iscrivervi perchè porto tutte le news qua appena escono, le vedrete sul mio canale telegram E vi raccomando di iscrivervi, ora guardatevi il video, bella bella! Tutto ragazzi, io sono Loggi e ho usato per mostrarvi un nuovo glitch Il glitch di oggi è un glitch abbastanza semplice, è un glitch che ripetiamo ormai almeno una volta ogni patch Ci sono una volta ogni due patch, ma comunque il glitch lo ripetiamo molto spesso e lo ripeteremo molto spesso Ed è il glitch su come avere questo bellissimo oggettino qua Ok, per chi non lo riconoscesse, questo oggettino qua sarebbe semplicemente la cassa regalo, quindi i regali Ma del secondo anno, che non è ancora disponibile in Fortnite, almeno in creativa In battle royale, cioè in pubblica, è già disponibile, però non è disponibile ancora in creativa Quindi per ora in creativa rimane un oggetto raro La resta cosa è per il cecchino, che non è ancora disponibile in creativa, come possiamo vedere Tutto gli oggetti leggendari io non lo vedo, quindi magari non sia cieco, io non lo vedo Quindi il cecchino è questo, rimangono per ora rari in creativa Ok, come si fa ad averlo? È un glitch, come ho detto, un glitch semplice che facciamo tutte le volte, quindi come avete già intuito bisogna prendere semplicemente la cassa Spawnarla E con il telefono copiare la cassa leggendaria, perché è più facile, ovviamente essendo il regalo leggendario Lo troveremo più facilmente con la cassa leggendaria, quindi la copiate un paio di volte E poi continuiamo e la cerchiamo Ok, come potete vedere, già l'ho trovata L'ho trovata Esattamente qui Ok, come potete vedere, io ho minuti infinite, quindi posso spawnarlo quanta volta voglio E visto che è un item raro, non c'è solo item raro, ma ci sono anche i materiali rari, quindi per esempio questo qui Che ancora non c'è in creativa, farvi un esempio Quindi se poi volete salvarlo, semplicemente basterà andare a prendere un, dove sta, un genetore di oggetti Posizionarlo per terra, come facciamo sempre, e buttarci sopra il regalo di compleanno E come potete vedere, dopo poco uscirà nel, nel generatore di oggetti Se volete usarlo, dopo averlo preso, ma non in game Semplicemente posso andare su la mia isola Impostazione di gioco E poi qui mettere munizioni infinite Perché così non lo perderete Ok ragazzi, spero che il video di oggi fosse un testo qui Da Ele e Locchi è tutto Ciao a tutti